Ciao, Mick! Indovina dove vado oggi? Non ne ho idea! Vuoi che te lo dica? Sì, dimmelo! Vado in campeggio! Beh, non vieni? Sì, certo che sì! Mick, che tenda fantastica! Vieni più vicino, ti dico un segreto! È la mia tenda segreta, ma... Shhh! Non devi dirlo a nessuno!